Un saluto a tutti, bentornati nel mio canale, riaccomi qua con un nuovo video per parlare di Portogallo-Serbia Portogallo-Serbia che è stata una bella partita, una bella partita dove il Portogallo è stato beffato Portogallo ha preso il secondo gol al novantesimo contro una Serbia magnifica contro una Serbia che ha fatto una prestazione perfetta, una prestazione molto alta rispetto al Portogallo Ma ragazzi, prima di iniziare a parlare della partita, vi chiedo di lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale e dirmi la vostra dei commenti a riguardo di questa partita, come vi è sembrato il Portogallo, come vi è sembrata la Serbia Ditemi la vostra nei commenti e di più, iscrivetevi e niente, iniziate proprio a parlare Portogallo-Serbia, una partita molto ma molto strana, neanche molto strana Una partita dove Portogallo e Serbia, dove io personalmente mi sarei aspettato tantissimo dal Portogallo Ma la partita ha parlato da sola, le prestazioni di tutte e due le squadre ha parlato da sola La Serbia che vince 2-1, se vi vado a parlare della Serbia, la Serbia dal primo e secondo ha giocato benissimo Poi c'è da dire che il Portogallo ha avuto una prima azione, credo, una prima azione, azione proprio vera e propria Con l'errore difensivo, perché non è stata neanche una azione, perché la palla ce l'aveva la Serbia La Serbia sbaglia in difesa, viene recuperata da Portogallo Recupera Portogallo, c'è Renato Sanchez, boom, tira e gol E poi dopo il gol è sparito il Portogallo Dopo il gol è sparito il Portogallo Il Portogallo ha fatto un errore Ha fatto un errore Poi in un'azione, Ronaldo ce l'ha fatto pure capire Ha detto salite, salite, salite Perché il Portogallo per anche il secondo tempo, ma anche il primo tempo dopo il gol È stata schiacciata dietro È stata schiacciata dietro Rispetto alla Serbia che mi è piaciuta tantissimo E ha meritato di vincere Meritava di vincere con la prestazione che ha fatto Se pareggiavano, vi venivo a dire che meritava di vincere la Serbia E alla fine ha meritato di vincere Ha segnato con un colpo di testa, bel colpo di testa al novantesimo Bellissimo, bello Sì c'è da dire che è bello, poi è entrata in rete Bello E la partita l'ha meritata L'ha meritata perché C'è il Portogallo che dopo il gol È sparita, dopo il gol Non pressava, dopo il gol Stava schiacciata dietro E non è che stava schiacciata dietro Stava schiacciata dietro più vicino alla porta Quindi più vicino alla porta I giocatori in antipossessati più vicini alla porta Ha portato al gol di Tadic Tutti schiacciati dietro Tutti schiacciati dietro vicino alla porta Posso dirlo così Tadic gli arriva a palla Dopo un cross Dopo un passaggio Dopo un cross in mezzo della Serbia Tadic gli arriva a palla Con tutto lo spazio che ha Con il suo mancino Fa due passi Fa due passi Si coordina Boom e tira Ovviamente Sul tiro di Tadic La palla è stata deviata Non ricordo da chi Ma è stata deviata Tirato Tadic Ha toccato il giocatore del Portogallo Ma Rui Patricio Stava andando proprio nelle direzioni Perché la palla Si stava per angolare A sinistra A sinistra proprio C'è andato Rui Patricio Ma Rui Patricio C'è andato benissimo lì Ha toccato la palla E è entrato E lì non è colpa per niente del portiere Ma è colpa della deviazione Perché Rui Patricio Poteva evitare di subire quel gol Ma ci ha provato e niente Sicuramente La papera non è mica sua Non è mica sua È la deviazione Che gli ha proibito di parare Gli ha proibito di parare la palla Ma comunque A parte il gol Che ha segnato la Serbia Ma la Serbia A differenza del Portogallo Ha dimostrato che Dal primo secondo Ci ha messo grinta Ci ha messo cuore Ci ha messo di tutto e di più Ci ha messo di tutto e di più Nel primo tempo Prima del gol Dusan Vlaovic Beccapalo Beccapalo Straordinario Dusan Vlaovic Ha avuto anche delle occasioni Ma Dusan Vlaovic Appena prende palla Meraviglioso È meraviglioso È bello È bello vedere Dusan Vlaovic in azione Quando vedi Dusan Vlaovic Non so cosa dire Non so cosa dire È un fenomeno Mi piace tantissimo Come gioca Come prende palla Come da spalle al giocatore Come si libera Come allarga Come allarga palla Tantissimo Tantissimo Poi c'è da dire Che ha 21 anni Che non siamo sbagli A 21 anni Ce ne ha da milionare Gioca con la Fiorentina Ok Poi chissà Se il prossimo anno Andrà a giocare Con un top club Un top club Parla top club Tipo In Premier League O in Italia Con la Juventus Con l'Inter Qualcosa Ma comunque Sto giocatore Mi piace tantissimo Mi piace tantissimo E alla Fiorentina Sta facendo bene E anche alla Nazionale Sta facendo bene Oggi non è andato in gol Ma ha giocato bene Ha giocato bene È stato molto di aiuto Molto di aiuto Ok Ho detto il panno Ma comunque C'è da dire Che la Serbia Come ho detto Ha prezzato Dopo il gol Del Portogallo C'è da dire Che l'ho ridetto ancora Il Portogallo Non si è più visto più Perché La Serbia Ha dimostrato Di essere squadra Ha dimostrato Di essere squadra A Tadic A squadra A Tadic A Mininkovic Savic A Kostic Che ha fatto Una grandissima partita Sulla fascia A Savic Poi che Dall'altra parte Le fasce Le fasce Della sede Hanno giocato Una partita Ottima Una partita Ottima Ottima Poi anche Il centrocampo Mininkovic Savic C'era Tadic Pericoloso Pure lui Giusovic C'era pure lui Anche la difesa Anche la difesa Perché Le piccole azioni Quelle poche azioni Che ci sono state Del Portogallo Mininkovic E' stato Meraviglioso E' stato ottimo Neanche meraviglioso E' stato ottimo Ottimo Intercettavo Qualsiasi palla La difesa Della Serbia Cioè La Serbia Difensivamente E' stata perfetta E' stata perfetta Perfetta Proprio Perfetta Perfetta Se nel primo tempo Poi il primo tempo E' finito 1-1 1-1 Poi rinizza Il secondo tempo Perché il primo tempo Meritatissimo Dalla Serbia Perché la Serbia Ci ha provato La Serbia E' attaccato sempre Sempre pericolosa Sempre pericolosa Prendeva palla Allargava di qua Allargava di là Come ho detto Le fasce sono state Pericolosissime Pericolosissime L'altra fasce Contro Nuno Mendez Che ha sofferto Tantissimo Ha sofferto Ha sofferto Contro Il loro numero Il loro numero 14 Il loro numero 14 Con gli scatti Ma comunque E poi dall'altra parte Costi ci è piaciuto tantissimo Costi ci ha provocato Neanche ha provocato Ha fatto prendere Pure a Cansello Giallo Non ricordo se l'ha fatto Su di lui Ma comunque Ha lasciato Cansello Cansello è arrivato Ad un punto Che ha dato un pestone E poi Giallo E la prossima partita Non ci sarà Perché c'è da dire Che nonostante Il Portogallo L'abbia perso Ma Ha una ultima chance Ha l'ultima partita Credo sia nel playoff Ma comunque Ha un'ultima partita Per provare qualificanza Ovviamente Sarebbe molto brutto Non vedere il Portogallo Non vedere Bruno Fernandes Non vedere Bernardo Silva Non vedere Cristiano Ronaldo Cansello Rui Patricio Campioni Ha dei campioni E mi dispiacerebbe Non vederli A giugno Non vederli a giugno Al mondiale Poi Chissà Vedremo Che accadrà Con la loro ultima partita Loro ultima partita Decisiva Decisiva Quella del Portogallo Tornando a parlare Della Serbia La Serbia sulle fasce Mi è piaciuta tantissimo Ha messo in difficoltà Il Portogallo Ovviamente Perché il Portogallo Come ho detto Ha sbagliato A schiacciarsi Perché neanche stava vincendo Anche sull'1-1 Nonostante ci sia stata La pressione Una Serbia Che pressava tantissimo Ma comunque Il Portogallo Come se stesse vincendo Indietro Schiacciata Al posto di Attaccare Pressare Essere pericolosi Niente Niente In totale Quelli pericolosi Quelli che sono stati pericolosi Renato Sanchez Renato Sanchez Mi è piaciuto tantissimo Tantissimo Non è che abbia fatto Una prestazione al top Ma comunque Lui appena aveva parla Lui l'unico pericoloso Poi c'è stato qualche tiro Di Cristiano Ronaldo Niente di che Cristiano Ronaldo Niente di che Poi che Cosa c'è stato Cosa c'è stato Niente Alcuni tiro di Cristiano Ronaldo Con punizione pure E niente Niente di più Renato Sanchez Ha fatto Uno o due tiri Ha avuto Ha avuto alcune Alcune occasioni Ma anche Il Portogallo Ha avuto alcune occasioni Ma la difesa Top Poi Il Portogallo Sbagliava pure dei passaggi I passaggi che Potevano permettergli Di andare avanti Di andare avanti Di finire la relazione Di almeno andare in aria Ci sono state Le occasioni Del Portogallo Ma non talmente tante Non talmente tante Che permettevano Di andare in gol Difesa della Serbia Ottima Difesa della Serbia Ottima E per concludere La Serbia Ha meritato La Serbia ha meritato Poi hanno strafesteggiato E merita Meritatissimo Hanno meritato E basta Hanno meritato E basta Io non credevo proprio Di vedere una partita così Ma questo qua Questo sport È il calcio E nel calcio Succede sempre Di tutto e di più Cioè Ero guardando la partita Arriva il novantesimo Boom Gol E lì il gol bello Un bel gol Un bel gol Schiaccia di testa Mitrovic Mitrovic che è del Fulham Credo Ma comunque Della Premier League Della Premier League E lì Lì anche Mitrovic Mitrovic Entra pure da sostituto Entra pure da sostituto In gara in corso E decisivo subito E complimente alla Serbia Complimente alla Serbia Perché Se gioca Con questa mentalità Con questa voglia Di giocare Di vincere la partita È stata pure pericolosa È stata molto brava Nei duelli Gli ha vinti quasi tutti 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 A parer mio Come ho visto Gli ha vinti tutti i duelli È stata molto brava Molto brava Intendono i duelli difensivi Uno contro uno Nel recupero palla Recuperava subito palla Anche Portogallo La palla L'ha recuperata alcune volte Ma non come la prestazione Della sede Serbia Ottima Serbia ottima Ottima E niente ragazzi Non direi proprio nulla Non direi proprio nulla Spero che mi sia capito E spero Se avete visto la partita Avrete già capito tutto La prestazione Ha parlato benissimo La prestazione Della Serbia Ha parlato bene La prestazione Della Serbia Ha fatto una buona prestazione E mi è dato di vincere E stop E stop E stop E niente Niente Poi dall'altra parte Dall'altra parte Che è che si è qualificato Si è qualificata pure La Spagna E sono molto contento Perché si è qualificata La Spagna Grazie al gol di Alvaro Morata Anche lui In gara in corso Al minuto 85 86 Non ho visto La Spagna Sono andato solo a controllare Ma comunque Morata Decisivo pure lui E la Spagna Si qualifica E' ottimo proprio C'è da dire Applausi proprio alla Serbia Che mi è piaciuto tantissimo Oggi Mi è piaciuto tantissimo Mi aspettavo una prestazione Migliore Mi aspettavo una prestazione Buona Ottima Ottima Da Portogallo Che doveva vincere Per qualificarsi Ma niente Ma niente Ragazzi voi Fatemi sapere Se vi è piaciuto il video Lasciate un bel mi piace E ditemi la vostra Che è molto importante Ditemi la vostra Nei commenti E niente Poi scrivetevi al canale Come ho detto prima E ti va a dare Per essere già Su qualsiasi video Che carichero E niente E niente Vi mando un grandissimo saluto E ci ricchiamo Al prossimo video Ciao a tutti